Un fenomeno preoccupante è quello che è coinvolto nella serata della Notte Bianca in città l'antico monastero di San Basilio dove vivono otto suore. Due vandali intorno alle tre hanno forzato la porta del monastero in pieno centro e hanno provato anche a forzare una seconda porta per accedere al dormitorio delle suore. Le religiose, svegliate dai rumori, hanno chiamato i carabinieri, ma non è finita così la nottata, perché qualche ora dopo, intorno alle 5, una suora si accorta dei rumori provenienti dal confessionale dove c'era una giovane coppia e così i carabinieri sono stati chiamati e sono arrivati per la seconda volta. Le suore hanno raccontato di essersi spaventate moltissimo e che i giovani, appena hanno chiamato i carabinieri, sarebbero fuggiti. All'interno sono state trovate anche lattine e bottiglie di birra bevute da questi giovani che, evidentemente, sotto i fumi dell'alcol, hanno pensato bene di violare un luogo sacro. Le persone coinvolte nei due episodi erano diverse. L'episodio del confessionale è, se possibile, ancora più grave. Una giovane suora, Rena, è stata testimone di entrambi gli episodi. I ragazzi erano nudi nel confessionale e, alla vista delle suore, sono scappati. Sono state presentate denunce contro i gnoti per i due episodi distinti. La religiosa, però, ha impressi i volti di queste persone e non avrebbe problemi ad individuarli. Una notte di terrore, insomma, per le suore, alle quali gli aquilani sono molto affezionati perché è stata violata l'intimità di un luogo prezioso. In città molti si interrogano su questa deriva del divertimento dei giovani che, questa volta, hanno proprio toccato il fondo dopo risse e atti di vandalismo in centro. I carabinieri ora stanno portando avanti le indagini e, questa mattina, erano di nuovo sul posto a fare altri rilievi sui luoghi. Siamo spaventate. Io non troppo, perché quando mi sono alzata, io sono scesa, già mi avevano affrontato tutta una tragedia. Però, quando ho visto la polizia, ho visto il movimento, ho detto, che succede qua? Tanti vi stanno venendo a trovare, vi vogliono tutti bene all'Aquila. Tanti, telefonando da stamattina, presto, ieri sera tardi, fino a tardi. Io ho visto queste due che stanno dentro la confessionale. Erano nudi. Sì, erano nudi perché i loro vestiti stanno accanto, al suo banco. Io ho visto veramente, sì, ho visto, ma io non ho mai avvicinato, dentro la mia coscienza non si può manco avvicinare. Loro che cosa hanno fatto? Sono scappati quando l'hanno vista? Non sono scappati, perché io sto lì dalla distanza. Forse vogliono che... Stanno guardandomi se devo allontanarli. Poi dopo qualche minuto che sta ancora lì, allora sono uscite a chiedere. Hanno chiesto questo gesto, gesto di scusa. Io ho parlato soltanto che non si fa queste cose. Voi a questi ragazzi che cosa volete dire? Che io non avevo mai contro con loro. Ma quello che hanno fatto non è giusto. Devono rispettare gli altri. Devono rispettare. E poi devono essere bravi con la loro vita. Che non devi guastare con questa vita. Loro deve essere la speranza. Intanto, grazie alla collaborazione della ditta che ha eseguito i lavori di restauro del complesso, sarà stellato un sistema di telecamere di videosorveglianza e verrà potenziata l'illuminazione esterna di tutta l'area per evitare che simili episodi possano ripetersi a turbare la quiete del monastero.